Focalizziamo la nostra attenzione sulla categoria G5, ecco i nostri maschietti che si stanno schierando in questo momento. Grazie per la visione! Grazie per la visione! I don't know why we always cry, this we must leave and get undone, we must engage and rearrange and turn this planet back to one. So tell me why we got to die and give me the one by one. Ultimo passaggio, ultimo giro, è davvero piacevole vedere come si destreggiano i nostri ragazzi negli spazi stretti della volata, ben evidenziato questo fatto anche dalle inquadrature che vi abbiamo proposto. Ed eccoci pronti per leggere l'ordine d'arrivo della categoria G5, vinta da Battagli Dennis, secondo Carantoni Simone, terzo Scerbo Christian, quarto Marchesi Michael, quinto Lupino Stefano. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!